e poi la diretta chi fa il ciac e poi faccio il ciac e poi la diretta trasmette in diretta la Roma che vogliamo starting se mi controllate ancora c'è Roberto cacciatelo sto cerchendo di controllare io se va sulla pagina ci sei tu grazie a tutti e a tutte vi ringrazio al nome della Roma che vogliamo io passerò subito la parola ai nostri partecipanti ringraziando tutti quanti non faccio tutti i nomi magari vi presento mano a mano e inizierei subito da Paolo Bardini che con la sua lettera diciamo aperta ci ha invitato a un ragionamento su Roma sulle sue difficoltà sul rapporto difficile con le sue periferie ecco in questo senso inizierei da qui partendo appunto un'analisi della crisi che stiamo vivendo della pandemia come questa incide ulteriormente su una crisi che già stava vivendo la città e chiaramente quali sono le prospettive per una risposta a questa crisi a Paolo perfetto un saluto a tutti allora io partirei però da una piccolissima premessa cioè quello che è avvenuto la pandemia come si è sviluppata sia nel focolaio del Bergamasco di Brescia sia a Roma nelle RSA ha scoperchiato la cancellazione del welfare cioè tutto quello che è avvenuto è avvenuto perché è stato cancellato nel silenzio a parte appunto noi che stiamo intorno a questa tavola rotonda è avvenuto nel silenzio il taglio completo completo insomma un sostanziale taglio del welfare quindi c'è la privatizzazione delle strutture per gli anziani gli ospedali sono stati potenziati perché dovevano fare reddito e invece tutta la sanità diciamo diffusa tutto appunto la struttura sociale che avrebbe permesso come è stato in Veneto di limitare la pandemia quindi tutto quello che è avvenuto deriva dall'abbandono del welfare urbano veniamo alle conseguenze che mi chiedevi Roberto perché credo che queste debbano debbano preoccupare tutti Roma non aveva indici molto buoni di occupazione aveva indici di disoccupazione soprattutto non ci sono grandi settori che trainano se non i servizi privati penso penso a più vicino penso a tante altre realtà importanti come l'audiovisivo ma manca ancora quella struttura è chiaro che un abbassamento del PIL che è compreso tra il meno 6 e il meno 8% porterà a una ulteriore diminuzione degli occupati a disoccupazione e all'abbandono appunto del lavoro da parte di molte persone io credo che dobbiamo essere così bravi da poter mettere in campo un'idea alternativa perché un'idea io già la vedo insomma è quella vincente è quella che viene propagandata dal gruppo che sta intorno al primo ministro cioè al tavolo tecnico scientifico che è fatto da banchieri e da manager che sicuramente sono tra coloro che potrebbero parlare di meno per le cose che dicevo cioè perché sono i responsabili del taglio del taglio allora vediamo un po' come riusciamo a mettere in piedi le città in particolare Roma io credo che la ricetta sia una quella più importante cioè fino a oggi noi abbiamo vissuto per 30 anni 30 anni lunghissimi Patrizia Sentinelli lo sa benissimo avendo fatto la consigliera in quel periodo in cui le città sono state disegnate dagli interessi fondiari quindi non c'è stata mai una regia pubblica che ha detto voglio sviluppare la mia città in un certo senso perché i punti di forza sono questi se noi tornassimo a questi elementi storici del governo della città forse noi ce la faremmo perché poi la grande immagine di Roma può essere venduta sull'universo mondo ma per investire a Roma c'è bisogno che noi ricostruiamo la struttura faccio un esempio che non riguarda Roma tanto sto ancora c'ho ancora due minuti Pomezia è uno è stato uno dei punti di di grande luminosità perché lì legata da Ostfart c'è un gruppo che sta cercando il vaccino ecco a Pomezia ci sono tre tre grandi centri di ricerca tutti privati che non sono collegati tra loro se non attraverso questa immane periferia di Pomezia che è un po' più brutta di quella di Roma allora il ragionamento che farei io è che bisogna ripensare le città mettendo in rete queste eccellenze che possono essere la soluzione dei nostri problemi e possono rimettere a posto l'economia allora tre piccole proposte la prima che mi sembra guardate è quella che mi preoccupa più di tutti perché noi andremo a una riduzione della portata del trasporto pubblico che è superiore al 50% a One c'era il 35% di spostamenti in automobile dopo la pandemia sono diventati il 70% quindi sono esattamente raddoppiati se questo succedesse a Roma e succederà a Roma in particolare a settembre credo che avremmo allora bisognerà chiedere nel pacchetto dei trasferimenti del governo che ci sia un immenso investimento al trasporto pubblico magari costruendo le tramvie che da troppi anni abbiamo chiesto in vano perché quella è l'unica soluzione che possiamo avere secondo punto dobbiamo ricostruire il welfare perché dobbiamo ricostruire questa rete questi presidi che stavano in periferia che erano fatti di assistenze sociali erano fatti di medicina preventiva eccetera che sono scomparsi quindi dobbiamo dare alle nostre periferie l'indicazione che lo Stato c'è che non se ne va appena è finita la pandemia ma anzi dobbiamo ribaltare il tavolo e dire non cancelliamo il welfare lo ricostruiamo perché ci sono altri altri motivi per costruirlo questo vale per tutte le città io aggiungo su Roma perché questo mi sembra uno degli elementi molto importanti del documento che è apparso appena 48 ore fa di molte associazioni un documento che ritengo importantissimo cioè non è possibile se noi vogliamo rilanciare la struttura produttiva di Roma oltre avere un sistema di trasporto pubblico non inquinante noi dobbiamo chiudere per sempre con la forza necessaria l'emergenza l'emergenza abitativa cioè come può presentarsi al mondo una città che ha 100 occupazioni da parte di famiglie che hanno l'unico torto di non avere un reddito che gli permette di affittare una casa allora visto che nel giro di 15 giorni sono stati assunti 20.000 operatori sanitari tra medici e appunto infermieri perché bisognava rispondere hanno fatto bene alla crisi noi dobbiamo chiedere che qualche cosa come 8.000 famiglie quindi non è una dimensione gigantesca vengano appunto messe nelle condizioni di trovare una casa qui c'è tutta l'esperienza di Sandro Medici fatta anni fa dobbiamo metterla a sistema e dire che questa città deve chiudere l'emergenza che aveva che non è il covid è anche il covid adesso ma è la mancanza di casa e la mancanza dei trasporti per poterla rinanciare per il futuro è chiaro che il rilancio della città si basa soltanto su una visione della città che è di tutti che non è soltanto dei proprietari delle aree non è soltanto di chi è proprietario di un'azienda e ormai precarizzerà il lavoro ancora di più e quindi dobbiamo mettere in campo un'idea alternativa di come si può sviluppare la nostra città grazie Paolo molte le suggestioni la prima che mi viene vorrei chiedere a Monica ma le risorse noi abbiamo adesso assistito questo balletto europeo perché di questa entità si parla della dimensione della crisi non riguarda la città non riguarda il paese ma diciamo oltre il globo particolarmente l'Europa volevo chiederti che cosa pensi tu quali siano le risposte date e quelle da dare a favore della soluzione dei problemi per la città ma non solo ciao innanzitutto grazie di questa occasione perché come sempre ragionare insieme per ascoltare Paolo è particolarmente ispirante so che è una persona che su questo test sta mettendo questa città sta mettendo il cuore insomma è una terza non può innanzitutto noi dobbiamo ritornare ad essere una capitale europea cosa che non siamo più perché dopo diciamo una campagna elettorale luddista in cui la proposta era cambiare tutto rivoltiamo tutto con un calzino cambiamo la struttura della città eccetera facciamo i risparmi perché così abbiamo gli investimenti in realtà questa città dal governo nazionale non ha avuto quei poteri e quei fondi che avrebbe dovuto avere per essere una capitale europea dall'amministrazione riceve una visione che diciamo chiamare Intragrà è già fagli un complimento nel senso che ha una visione assolutamente così neanche da ZTL da portineria di un palazzo vecchio perché si si controllano gli accessi chi entra e chi esce ci si limita a fare bassa cucina esattamente come si faceva prima soltanto che i clienti sono diventati altri e quando scatta una crisi come questa cioè quella del Covid il risultato è che praticamente si ritorna a una sorta di romanzo neorealista non romantico e anche pure bruttarello in cui la visione più forte è quella di distribuire pacchi spese buoni e buoni con le telecamere dietro la schiena in modo da far sì che i poveri ti votino la prossima volta pur non avendo avuto nulla da te in questo quadro se facciamo uno scalino e quindi anzi manco un chilometro arriviamo dal Campidoglio lungo via del Corso fino a Palazzo Chigi il DEF in realtà ci presenta una come dire una visione magabra di questo paese dove c'è un rifinanziamento della solita vecchia economia quella neanche diciamo quella prefigurata da Paola addirittura quella pre 2009 si riparla di austerity cioè si dice che si dovranno tenere i conti in ordine si dice peraltro che si dovrà fare una razionalizzazione dei conti quali conti ci chiediamo visto che appunto i fondi non ci sono e che la gestione diciamo della anche proprio delle casse comunali è stata un permaonere dell'austerity perché ricordiamo che questa capitale non ha speso molti dei fondi che gli erano stati assegnati l'ha rimessi nel diciamo nel porcellino del debito del comune quindi ha liberato spazi di bilancio per farne cosa ancora capiamo nel senso che al quarto anno e mezzo stiamo a rimettere i San Pietrini sotto al Militegnodo ecco questa è la grande innovazione che dobbiamo di cui che salutiamo con una certa felicità perché noi pensavamo e manco quelli quindi arrivano San Pietrini mio addio quando tu fai un altro passo e quindi diciamo che prendi la metropolitana più vicina vai se te lo permettono a Fiumicino prendi un aereo e arrivi a Bruxelles in qualche modo a Bruxelles che cosa lanciano l'altro ieri una raccolta fondi per affrontare l'emergenza Covid non sto scherzando cioè questa è stata una delle grandi idee che il Bruxelles sta lanciando in queste ore perché chiaramente il debito non regge ma la BCE non vuole fare sotto la guida la guard ciò che deve ossia la banca centrale europea vuole continuare ad essere uno strumento puramente finanziario di un pulmino dell'orzo bimbo di stati che stanno facendo ciascuno concorrenza all'altro anzi proprio fidandosi di ciò che potranno fare riaprire prima riaprire dopo rispetto ai propri concorrenti europei non essendoci un bilancio comune e non essendoci un governo comune ma essendoci un Parlamento praticamente decorativo la Commissione sta continuando business is usual anzi usando appunto di nuovo la retorica dell'osterite e ci dicono occhio italiani perché se non mettete i conti a posto come diciamo noi e quindi con le condizionalità spiace che Repubblica se ne accorgi da oggi ma insomma quello ci stava scritto nello tutto bianco in inglese magari qualcuno che lo legge in inglese ce lo potrebbero mettere all'economico e chiaramente tutto questo non è che come dire apre scenari rosei per la capitale perché nel momento in cui si restringono i spazi di bianco a livello internazionale a livello europeo una città che è in difficoltà è addirittura chiuso l'ufficio Europa quindi non accede formalmente neanche ai fondi che fa ma non so che cosa ha fatto la città in questi anni si è schiacciata su un turismo mordi e fuggi bed and breakfast e poco più su grandi eventi anche quelli abbastanza episodici ha sostanzialmente lasciato sfilacciarsi il tessuto il tessuto sociale si è chiusa ancora di più ha sgombrato non accolto il welfare non esiste se non sulle spalle e sulle gambe di quelle realtà sociali che anche prima se lo denevano sulle spalle e lo facevano camminare e che adesso si trovano addirittura a sostenere e soccorrere un'emergenza di questo tipo era prevedibile sì a livello internazionale si era parlato della possibilità e l'abbiamo fatto anche insieme se ti ricordi Roberto della possibilità che esplodesse una bolla finanziaria tra il 2020 e il 2021 chiaramente di pandemia si era parlato più e più volte ma come sempre succede i diritti essenziali come la salute l'acqua il clima eccetera sono sempre messi in fondo alla lista delle priorità spiace che una capitale sia così umiliata che cosa tocca a noi tocca secondo me innanzitutto riscoprirla questa dimensione internazionale della città perché Roma appunto ha una vocazione che parla non soltanto al facoltaro globale Globtrotter che arriva col suo panino ma parla anche alla cultura parla alla finanza parla parla al dialogo sociale io ricordo quando negli anni 90 arrivavano delegazioni da tutta Europa per visitare le nostre cooperative le nostre associazioni per capire come si era organizzato prima diciamo del modello Roma la risposta una risposta innovativa ai bisogni che cambiavano anche nel tessuto sociale che si allargava oltre il gra questo è ciò che secondo me dobbiamo fare con un passo in più che è quello di tenere una città così grande dentro un cambiamento che deve essere un cambiamento della struttura economica di questa città perché una città non può accampare d'aria ad amore e defacoltari deve riscoprire una sua missione produttiva e lo può fare anche senza espandere i deor fino alla sede stradale come invece sembra volerà essere l'unica iniziativa significativa d'ora in poi deve poterlo fare valorizzando anche i tesori artistici e il patrimonio culturale in modo meno ornamentale di quello che ha fatto fino adesso Paolo più di tutti l'ha denunciato questo anche quando era assessore che si voleva come dire bambolizzare questa città tenerla sotto una tega metterci delle sempre più barriere sempre più tutto così sacrificato appunto a una visione turistica oleografica è il momento che la città torni a vivere penso che alcune delle idee di Paolo saranno fondamentali perché questo succeda penso che anche noi romani ci dobbiamo finalmente riappropriare del nostro diritto di esserci rotto un po' le scatole di essere trattati come gli ultimi dei deficienti e che quindi riprendiamo anche in tanti e tanti diversi la parola per raccontare come vorremmo e come stiamo sostenendo questa città con i nostri lavori e con le nostre storie quotidiane e penso appunto che tanti e tanti di noi che sono intorno alle aree che poi hanno sostenuto questa chiacchierata di oggi pomeriggio saranno a disposizione per farlo nei prossimi mesi grazie Monica ricordo questo proposito la differenza tra Napoli e Firenze il rifiuto del sindaco di Napoli di riconoscere un debito ingiusto mentre dall'altra parte c'è quelli che si mettono in riga e propongono la maggiore austerità per ripianare questo debito però la questione del lavoro è una questione importante la questione della produzione che abbiamo nella città qual è il modello di sviluppo se vogliamo dire usare questa parola che a me non piace è uno degli argomenti principi della questione e quindi chiederei a Roberto Giordano come qual è l'ipotesi l'idea in campo per uscire da questa situazione da parte di chi vive questo mondo del lavoro in maniera diretta grazie buonasera a tutti ma intanto io comincerei con con le questioni insomma più d'attualità nel senso che sembra che siamo di fronte alla alla salute alla sicurezza versus lavoro quindi sviluppo economia e non è pensabile il contrasto fra ambiente e lavoro non è più riproponibile se non mettendo in primo piano la salute fino ad oggi il governo ha seguito questa strada sembra è ovvio che gli strattonamenti sono sempre più evidenti soprattutto in quest'ultima fase quello che poi succederà o succederebbe se non si seguissero le indicazioni tra l'altro non mi sembra che l'istituto superiore di sanità sia la soccursale del Comintern e quindi bisognerebbe anche seguire le indicazioni che vengono date dal mondo scientifico le organizzazioni sindacali hanno firmato un protocollo il 24 di di aprile quindi qualche giorno fa esattamente in questo senso molto più dettagliato del primo noi ovviamente vigileremo perché la salute dei lavoratori non è un fatto teorico lo è sempre un fatto molto concreto perché le malattie ma anche i morti sul lavoro sono purtroppo uno dei motivi ricorrenti del nostro paese e anche in questa fase di pandemia come dire non ci facciamo mancare niente una per tutte che sarà l'attenzione già l'attenzione ma lo sarà ancora di più dal 4 di maggio insomma con la riapertura parziale è quello del mondo del trasporto pubblico per esempio che invece sia come questione che riguarda tutta la cittadinanza e quindi i lavoratori che vanno nel luogo di lavoro e qui dire che sia a ritardo rispetto al comune di Roma forse dire poco nel senso che un sistema di trasporto che non è guardate questioni né di ciclabili in più o di qualche autobus in più è proprio che questa città questa consigliatura forse ancora più di alta e non ha proprio un'idea compiuta di cosa dovrebbe essere un progetto della mobilità urbana e c'è un problema di sicurezza anche dei lavoratori provate a immaginare un po' la situazione a Roma con gli autobus che hanno un numero limitato che controlla l'accesso e come può essere esposto il conducente visto anche quello che è successo negli ultimi mesi e che ha l'attenzione di tutti quanti insomma di questo sembra che ce ne stiamo occupando così parzialmente e marginalmente in più in questa fase nonostante fosse vietato proprio dal protocollo non questo il primo e anche dal dal decreto stesso il primo che è stato messo in campo non c'è la possibilità non ci dovrebbe essere la possibilità per esempio di licenziare cosa che invece viene fatta quindi anche in questa fase dove non dico la pace sociale ma un'attenzione particolare rispetto al mondo del lavoro invece viene completamente completamente sottaciuta e mi permetto di dire che il problema non è enfatizzare la retorica del lavoro come si sta facendo anche con giustamente in parte con gli infermieri medici ma con tutti coloro che hanno svolto ad oggi un lavoro fondamentale per la sopravvivenza del paese ecco noi abbiamo scoperto che il lavoro è fatto da uomini e donne persone in carne ed ossa che ci danno la possibilità di curarci di mangiare di essere assistiti noi lo scopriamo adesso tutto questo il comune intanto ha sotto mano quasi 25.000 oltre i suoi dipendenti quasi 25.000 persone più l'indotto quindi lavoratrici e lavoratori che lavorano nel sistema delle partecipate e beh di questi giorni la notizia che si parla di molti servizi per esempio di poco meno di 300 esuberi si è parlato in farmacup di sanzioni disciplinari dati ai farmacisti delle farmacie comunali perché pretendevano l'osservanza delle norme di sicurezza e compagnia cantando anche le morti di ama è stato programmato uno sciopero unitariamente in questo senso insomma lo diceva Monica prima inizia a diventare un po' stocchevole questa modalità da istituzolusce della sindaca di Roma che ci fa vedere come consegna i pacchi o come vada a aprire appunto le gallerie in qualche modo ristrutturate e in più mi permetto di aggiungere non riguarda specificatamente Roma ma anche qui un cenno diciamo un elemento di civiltà sarebbe per esempio la CGL lo ha lanciato ma credo che debba essere patrimonio antigialo o poi patrimonio comune anche di una parte del mondo associativo quello di parlare visto che è molto molto impopolare adesso e ancora prima l'ora della regolarizzazione dei lavori dei lavoratori non solo quelli impegnati in agricoltura ma tutti i lavoratori presenti in questo paese ci sono centinaia di migliaia di lavoratori che non sono regolari in questo paese e che consentono al nostro paese di andare avanti è impopolare beh la politica prende in mano questa discussione faccia un passo in avanti e riguarda anche la città di Roma perché non in agricoltura ma in tanti altri settori invece questo problema c'è sul futuro le cose le accennate Paolo in apertura le ha dette anche Monica rispetto ai singoli settori dei quali bisognerà sicuramente riparlare io mi permetto di dire tre cose in questo senso generali poi se ci sarà occasione approfondiremo più nel dettaglio intanto l'intervento dello Stato in economia ecco questo credo che sia il momento di ritornare a pretendere questa cosa non è mi sembra che il fatto che diciamo il sistema non sia in condizione di autoregolarsi ma ormai è un fatto acclarato e ha quasi un'evidenza scientifica bene l'intervento dello Stato in economia non soltanto nei settori quelli rilevanti ma laddove è necessario consentire una produzione che consente di andare avanti al Paese in qualche modo anche di orientarlo non dando risorse a pioggia al sistema produttivo economico perché questo è stato già dimostrato in precedenza non serve scusatemi ma devo aggiungere collegarmi con la batteria se non mi si carica il computer a volo perdonatemi in diretta faccio questa cosa secondo la riconversione ecologica ecco penso che anche qui Monica lo accennava e sarebbe un discorso ovviamente da approfondire non è una questione da riprendere dal punto di vista diciamo dell'ecologismo d'antane qui è una questione che siamo al punto in cui siamo semplicemente perché un modello di sviluppo ha fallito e bisogna proporne un altro a Roma ci sono tanti settori che andrebbero impegnati in questo senso così come ci sono tanti settori si faceva l'esempio del polo di Pomezia ma è solo uno degli elementi che riguarda la ricerca a Roma che fra poli e università che non abbia uguali probabilmente in Europa e l'ultima è la riduzione dell'orario di lavoro io penso che questo sia il momento per non solo dirla questa cosa ma pretenderla anche in un rapporto anche col governo non solo con le parti datoriali perché la ridistribuzione dell'orario di lavoro in questa fase potrebbe essere anche uno degli strumenti naturalmente a parità di salario questo va da sé che consentirebbe appunto di evitare licenziamenti di evitare crisi aziendali e quant'altro chiudo su una questione alla quale tengo particolarmente alla quale faceva scenno credo se ho capito bene il riferimento di Palo in apertura io penso che il sindacato abbia un compito aggiuntivo in questa fase cioè saldare un rapporto molto forte e scindibile di questa una responsabilità evidente con i movimenti sociali per costruire una nuova rappresentanza generale io penso che il sindacato questo in parte lo sta già facendo e di oggi la pubblicazione di un documento di intenti promosso da Libera nel quale ci sono CGL CISLE UIL le ACLI insomma tante altre l'ARCI tante altre associazioni che fanno una serie di proposte molto importanti e molto interessanti e non tradizionali almeno in un contesto organico per il sindacato penso alla questione per esempio della casa che vale per tutti quanti si parla sostanzialmente del blocco delle procedure di sfratto si parla di una riduzione degli affitti di mercato insomma di roba nella quale il sindacato non è mai entrata in modo particolarmente efficace a Roma questo stiamo provando a farlo da qualche anno in questa fase in particolare questa fase specifica con la rete numeritaria abbiamo prodotto una lettera credo che sia questa quella a cui si riferisse Paolo una lettera indirizzata alla sindaca di Roma nella quale non soltanto si fa una critica molto forte a questa gestione alla gestione capitolina ma si fa anche una serie di proposte concrete rispetto al lavoro pensata tutto soltanto al mondo della cooperazione agli esili nido che rischiano fortemente in questa fase penso alla questione dei senza casa e senza dimora cioè quelli che quando noi dicevamo stiamo a casa perché c'è bisogno del distanziamento sociale abbiamo scoperto che ce ne stavano più di 10.000 a Roma che invece una casa non ce l'avevano oltre a quelli delle occupazioni stiamo enfatizzando anche qui la retorica del volontariato e dell'associazionismo io sono molto d'accordo un fatto positivo non si sta parlando di welfare integrativo si sta parlando di welfare sostitutivo a tutto tondo cioè il sistema dell'associazionismo si è sostituito ad un comune incapace e allora se questo è riconosciamo anche il ruolo del mondo dell'associazionismo e ritiriamo una volta per tutte questa famosa anzi famigerata delibera 140 che devo dire ha fatto più danni che altro e infine riprendiamoci anche un po' di spazio democratico ecco insomma io ho visto personaggi eminenti del Parlamento italiano fare una manifestazione distanziati sotto il Parlamento oggi i movimenti per la casa hanno fatto una cosa analoga proprio davanti al Parlamento io credo che quella lettera la dobbiamo portare in Campidoglio non ci autorizzeranno beh proviamo un po' a forzare riprendiamo qualche spazio democratico grazie grazie Roberto le suggestioni sono tante uno degli aspetti fondanti diciamo di questo cambio di stagione avviene proprio nel mondo della scuola e dell'insegnamento oltre che dell'assistenza e Patrizia Pentinelli che è un diciamo lungo corso politico ma anche interno alla scuola a lei volevo chiedere appunto come come vive questo mondo la crisi e qual è la possibile prospettiva uscita dalla crisi in queste condizioni Patrizia grazie intanto vi saluto buonasera a tutte e a tutti e grazie dell'indito io come ricordava Roberto ho fatto anche per tanti anni politica ma sono stata un'insegnante anche per lunghi anni e ora parlo anche in questa sede come persona che anima un'associazione di quelle di cui faceva riferimento anche Roberto Giordano si chiama altramente e collabora con le scuole proprio per contribuire all'esercizio pieno del diritto allo studio che la scuola da sola non lo garantisce non ci siamo mai pensati come sostitutivi alla scuola pubblica perché sarebbe un errore micidiale le associazioni debbono essere riconosciute per quel valore aggiunto che danno all'insieme diciamo così del mondo della cultura e dell'educazione se lavorano in questo ambito e comunque ad essere quei soggetti che operano per ritessere i legami sociali che sono stati recisi il più delle volte dalle ultime politiche ormai di tanti e tanti anni che hanno voluto appunto far dominare il mercato e le politiche neoliberiste la scuola tu dicevi intanto in questo periodo possiamo dirlo tutti non ne abbiamo discusso molto come associazioni proprio poco fa prima di collegarvi con voi avevo fatto una colla con le associazioni delle cosiddette scuole popolari Don Sardelli Paolo all'inizio Paolo Berdini ne ha parlato ha conosciuto da vicino Don Sardelli e la scuola 725 beh ci stiamo provando a rimettere in gioco perché pensiamo che proprio la scuola l'istituzione della Repubblica non una cosa qualunque un'istituzione fondamentale garantita dalla Costituzione insieme al diritto allo studio presidio della democrazia è stata dimenticata è stata dimenticata e relegata per lo più allo spazio della famiglia magari per lo più direi ancora alle donne allora in questa situazione che cosa temiamo che cosa temo che il dopo possa essere peggio addirittura del prima e guardate che il prima già era brutto perché quei famosi tagli che hanno colpito lo stato sociale hanno colpito fortemente anche il sistema scolastico e anche le riforme diverse che si sono presentate all'interno della scuola e portate avanti con una logica mercantilista hanno fatto sì che la scuola diventasse il terreno della competizione della sbagliata meritocrazia le une contro le altre pensate a quelle cose così banali di cui tutti anche quando siete genitori ne sarete accorti che sono le open day ogni scuola come dire fa pubblicità del proprio servizio educativo dimenticando appunto che sei un'istituzione della Repubblica che deve garantire il diritto allo studio abbiamo in Italia una dispersione scolastica altissima questa situazione potrebbe portare a peggiorare di più sia i dati della dispersione ma anche peggiorare complessivamente la povertà educativa allora di questo ce ne dobbiamo occupare che cosa è stata la didattica a distanza è stata una risposta frettolosa io penso anche utilizzata in qualche misura in modo efficace ma sicuramente che ha fatto emergere quelle diseguaglianze che già c'erano precedentemente ma che non erano ancora emerse noi operiamo come associazione per questo la scuola io la conosco bene le scuole il sistema scolastico operiamo dicevo in una situazione in cui tanti ragazzi e bambini e bambine che vengono a scuola provengono da diversi paesi sono ragazzi cosiddetti stranieri perché magari anche se nati in Italia non hanno ancora la cittadinanza ma ci sono anche alcuni che sono appena arrivati per il congiungimento familiare bene voi pensate che cosa significa aver tolto all'improvviso a questi ragazzi la didattica in presenza io non dico che si poteva fare diversamente ma certo bisognava essere preparati e non lo si era però numerosi insegnanti si sono dati da fare per inventarsi le possibili piattaforme per collegarsi ma poi che cosa è successo che in tante situazioni mancavano gli strumenti tecnologici i ragazzi a casa avevano magari solamente il proprio cellulare ebbene quante volte ci siamo detti in modo sbagliato che viviamo in una generazione di nativi digitali questi ragazzi ragazze bambini e bambine magari giocano con il cellulare ma non lo sanno far funzionare il sistema che deve servire per una didattica funzionale e allora dobbiamo da questo punto di vista dirci che quella disuguaglianza che è emersa in queste giornate di pandemia può tornare ancora a pesare maggiormente sulla scuola quando si riaprirà si dice a settembre beh allora io penso che prima di ogni cosa bisogna fare una programmazione una seria programmazione dell'intervento perché la scuola ritorni ad essere la scuola della Repubblica ma ragioniamo anche con delle proposte concrete servono investimenti sì tanti investimenti nel settore scolastico perché si debbono mettere a norma gli edifici ripensare l'indirizia scolastica fare anche interventi importantissimi all'interno di ogni singolo plesso scolastico perché non se ne fanno da anni bisogna dicono anche in modo un po' ridicolo sanificare le scuole ma noi abbiamo i bagni che non funzionano non ci sono le strutture le attrezzature io parlo della nostra città in particolare bisogna dunque chiedere investimenti nella scuola sia per l'aspetto strutturale appunto dicevo l'aspetto delle strutture scolastiche delle classi delle aule ma penso anche e mi ricollego a quanto diceva anche Roberto Giordano a prendere a cuore l'interesse di chi opera nella scuola come lavoratori e lavoratrici tante donne ma c'è un macello di precaiato all'interno della scuola come numero e come anche diciamo difficoltà di pensarsi in modo organico all'interno della scuola pur se da tanti anni si vive all'interno della scuola e si opera all'interno della scuola non c'è certezza allora bisogna investire anche sul personale della scuola e fare anche dei patti territoriali perché Monica diceva prima di me bisogna ripensare Roma come città e metropoli e capitale europea d'accordo fino in fondo d'accordo con le proposte di Paolo all'inizio ma pensiamo anche alla città di Roma come città comunità e per creare una comunità bisogna far leva proprio su quelle forme che rendono possibile la ricocitura del tessuto sociale questi sono tutti quei soggetti che operano all'interno delle associazioni parliamo di queste in modo generale ma se ne possono fare tanti e mille di casi tante esperienze in tanti campi sono l'elemento vivo di una città rendono democratico il tessuto urbano se tu come è stato fatto in questi anni hai tagliato anche la possibilità a quelle esperienze di vivere non hai tenuto conto che la democrazia diventa più povera e si indebolisce via più altro che populismo allora io penso che di questa partita e di questa fase dobbiamo tirar fuori le cose migliori che ci sono state da questo punto di vista la scuola che è stata dimenticata e come dicevo prima relegata in ambito familistico è diventata anche di nuovo mi pare una diciamo così una struttura una situazione un luogo uno spazio pubblico che ha ripreso valore perché tanti genitori se ne sono accorti ora che la scuola è così importante perché magari hanno dovuto aiutare i figli a connettersi hanno capito come era importante la didattica e insieme a loro tanti non tutti sicuramente ma tanti insegnanti hanno sperimentato come si è potuto essere presenti anche senza la lezione in presenza e ce ne sono tanti si sono rivolti anche a noi che abbiamo continuato a stare sul campo per aiutare ai compiti ma anche per fare una chiacchierata perché la scuola è certamente didattica ma anche socializzazione momento di fare amicizia e cioè crescere insieme per imparare anche allo stare in comunità e soprattutto aumentare il senso critico l'esperienza collettiva significa anche dare la possibilità ad ognuno di crescere meglio e bene le associazioni sono indispensabili anche perché creare questo legame è difficile e allora essere nel tessuto urbano Paolo nella lettera che tu appello hai messo all'inizio ci deve essere va ripensato l'urbano e va ripensato anche come l'urbano può tornare ad essere davvero democratico garantendo i servizi essenziali ma garantendo anche i luoghi di incontro i luoghi dove la comunità fa vivere anche le proprie emozioni e sentimenti e desideri insomma una città che si rimodella anche a partire dalle scuole che debbono restare aperte tutta la giornata e allora si risponde ridendo e beh tanto c'è il volontariato no la scuola di rimanere aperta perché è uno spazio pubblico utile per tutti e spalmare le attività quelle didattiche quelle ludodidattiche quelle del teatro creativo dei laboratori per stare insieme e far sì che ci possa essere quella scatto di energia per restituire ai bambini alle bambine ai ragazzi agli adolescenti agli adulti il piacere della cultura dell'imparare e anche dello svago io penso che questo non possa essere solo un sogno di pochi di pochissime persone che magari lo hanno sognato e provato a far vivere anche negli anni passati ma che possa essere il sogno di tutti e tutte serve equità serve giustizia sociale servono investimenti mirati per far sì che questa città torni ad essere davvero la città della comunità umana dell'umanità grazie grazie a te Patrizia uno degli aspetti principali di Roma è la sua dotazione culturale per molti anni Cinecittà è rappresentato la prima industria della città ma in generale come è stato detto già prima monumenti scuole teatri scuole di attori di cinema di persone che si impegnano sul terreno della cultura è una delle ricchezze della città eppure oggi vivono una grandissima difficoltà di non poter essere attivi di non poter lavorare perché anche quello è un lavoro allora volevo chiedere a Sandro Medici che dice Cinecittà ne sa qualche cosa cosa pensa lui come vede questa questa risorsa nella costruzione della Roma che vogliamo Perfetti Sandro dovresti aprire il microfono ecco dicevo che il settore della cultura Roma è non soltanto centrale strategico dal punto di vista economico eccetera ma lo è anche per il per l'impronta che di Roma viene in qualche maniera proiettata e non è soltanto una considerazione che si fa in base alla sua storia al cinema insomma tutte le cose che sappiamo e che ci appassionano e che ci suggestionano ma lo vedo anche come elemento produttivo produttivo sia perché anch'esso fa parte diciamo dei processi di accumulazione e di redistribuzione economica ma anche perché produce che cosa quella roba immateriale che è la cultura che è l'arte che è la grande diciamo quel tipo di suggestione atmosfera che fa di Roma una delle grandi capitali delle grandi capitali internazionali è chiaro che quando si fa questo ragionamento e poi ci si guarda intorno soprattutto si dà un'occhiata in Campidoglio beh viene lo sconforto è chiaro che l'amministrazione che abbiamo da quattro anni sotto questo aspetto è veramente una banda di poveracci e non soltanto appunto non è in grado minimamente di gestire alcunché ma per di più fa danni fa danni seri abbiamo visto parlavate prima di associazionismo molti lo hanno citato beh diciamo che se non ci fosse stata questa rete di di realtà di esperienze beh insomma non ci sarebbe stato quel minimo di sostegno e di aiuto per le persone che in questa pandemia avevano più bisogno cioè sostanzialmente questo questo mondo che è un mondo non profit che è un mondo di volontariato è un mondo di passione ha sostituito seccamente quello che avrebbe dovuto fare l'amministrazione comunale tra questo sicuramente questo mondo spiccano le realtà culturali io ricordo sempre chiedo scusa se se qualcuno magari trova irritazione in quello che dirò quando si cita la delibera 140 io ricordo sempre che il primo sgombero quindi la prima applicazione della delibera 140 venne fatto contro il Teatro Valle che per Roma è stata una delle esperienze davvero più straordinarie quel teatro che è antichissimo eccetera beh non aveva mai visto tanta gente durante tutta la sua lunga storia e con questa pretesa questo malinteso richiamo all'ordine alla legalità un'esperienza eliminata illiquidata e questo è tuttora è tuttora perdura questo modo di di perseguitare queste realtà che invece fanno accennava adesso anche Vadrizia fanno l'atmosfera fanno il clima sociale la democrazia di questo di questa di questa nostra città il settore culturale come tutti gli altri beh avrà tra breve un già ora ma insomma soprattutto nei prossimi mesi avrà un tracollo una recessione davvero spaventosa vedete sta finendo questa questa nostra quarantena e insomma più che l'euforia io comincio a pensare che prevalga la paura la paura di quello che troveremo sarò un facile e forse anche sciagurato profeta ma le idi di maggio per Roma saranno catastrofiche ci sarà una situazione di riduzione dei redditi a livello complessivo che impoverirà in maniera inesorabile tutti gli strati sociali ovviamente a scalare e si andrà appunto da quelli che in qualche maniera facevano parte delle fasce stabilizzate fino a l'esercito dei poveri cristi che sappiamo esserci in questa città e che appunto vive come può e vive in maniera assolutamente precaria se non proprio disperata per definirli i nuovi accattoni no? Sono questo mondo un po' segreto un po' sotterraneo che difficilmente emerge ma che avrà una vita difficilissima e per tentare di risollevare un po' le sorti questo vale per Roma non vale per tutto il paese eccetera beh ci sono tutte queste questi degredi che prevedono finanziamenti per la ripresa delle attività quelle di prima quelle che poi sappiamo per larga parte hanno determinato questa situazione così perniciosa per noi veniva accennato in altri interventi e quindi che cosa facciamo noi rischiamo di riaprire una dinamica economica e quindi anche sui redditi che sarà non soltanto sbariata ma sarà anche inefficace perché se ci saranno le produzioni del passato beh queste produzioni non avranno più mercato perché non ci sarà quella disponibilità economica in grado di assorbirlo questo mercato oggi la domanda è diversa non soltanto si è notevolmente come dire contratta ma contemporaneamente vuole un'altra offerta e invece il sistema economico di questo paese di questa città continuerà a offrire esattamente la stessa mercanzia vedete io penso che questo momento in cui si ragiona di finanziare le attività lo sviluppo la ripresa la crescita insomma tutte queste definizioni quello che manca completamente è l'idea che sia che queste risorse che sono risorse pubbliche ebbene vengano determinate da una regia pubblica da una strategia pubblica voi pensate per un attimo limitatamente a Roma se noi potessimo disporre di risorse sufficienti per fare una serie di grandi ristrutturazioni per la città pensate un attimo a una grande manutenzione del territorio una grande riqualificazione dei quartieri Patrizia accennava all'edilizia scolastica lo stesso vale per i parchi lo stesso vale per tutte quelle come posso dire intelaiature infrastrutturali di questa città che stanno messe malissimo che quando piove si allaga tutto ecco pensiamo per un attimo se queste risorse venissero impiegate per un grande un grande lavoro di rimessa al regime di Roma quanto lavoro questo produrrebbe e quanto beneficio darebbe alla città ma lo stesso vale se ci pensate per un attimo anche a una cosa che viene sempre trascurata e che invece secondo me è strategica all'agricoltura si dice sempre che Roma è il comune più agricolo del mondo perché ha una sterminata area agricola ma quest'area agricola è per il 95% assolutamente inutilizzata siccome gran parte di queste aree sono pubbliche ecco pensate se si potesse fare su queste aree un grande programma di sviluppo agricolo e poi magari utilizzare questi alimenti come un tempo si faceva con l'ente di consumo per carnerare i prezzi sul mercato i prezzi degli alimenti oppure utilizzare questi alimenti queste produzioni per il fabbisogno pubblico le scuole i centri anziani gli ospedali immaginate quanto questo varrebbe come risparmio invece di fare questi bandi infiniti e francamente molto dispendiosi ecco quello che voglio dire è che diciamo se noi avessimo una una classe dirigente di peso di spessore e con grande sensibilità oggi rifarebbe quello che nel passato è stato fatto negli anni 30 dopo la crisi del 29 e cioè un grande investimento pubblico di opere pubbliche ma soprattutto di rilancio dell'economia un'economia che al contrario di quella attuale che è privata e che appunto è basata solo sul profitto non sarebbe distruttiva ma al contrario sarebbe invece costruttiva cioè rimetterebbe a posto questa città le riderebbe quello smalto che nel corso degli anni si è assolutamente opacizzato ecco è un esempio per dire che noi abbiamo un governo di cialtroni cioè di gente che sostanzialmente fa i maggior doni dei grandi poteri economici e quindi riversa su di essi le risorse che sta mettendo a disposizione che sappiamo lo ricordava lo ricordava prima Monica con tutti i problemi sul debito che questo comporterà ma saranno delle risorse assolutamente inutili che non aumenteranno i redditi continueranno a impoverire fasce di popolazioni anche diciamo che finora insomma si sentivano abbastanza garantite e in più finiranno semplicemente per riempire i magazzini perché la loro merce resterà in venduta quindi pensate che il capolavoro si sta profilando ecco se noi avremo la forza la capacità io spero naturalmente di fare le battaglie giuste dovremmo imporre esattamente questo il ricordo il ritorno del primato pubblico anche sull'economia perché è l'unica strada per rimettere a posto questo paese e questa città grazie Sandro hai citato diciamo il valle un'altra delle esperienze della città che ha un carattere internazionale ma che qui trova la sua diciamo fisicità è la casa internazionale delle donne la questione delle donne e come queste stanno vivendo la crisi è una cosa che volevo chiedere a Giulia insieme a chiaramente come se ne esce insieme a qual è la proposta diciamo che può avvenire da parte nostra per dare un futuro e una diversa condizione delle donne e della città Giulia sentite sì prego io penso che guardare la crisi del coronavirus dal punto di vista delle donne è molto molto illuminante perché persino simbolicamente illuminante nel senso che l'essere chiusi in casa la quarantena è esattamente ciò che le donne hanno cercato di sfuggire negli ultimi sessant'anni le ultime due tre generazioni di donne hanno combattuto un'intera esistenza per cercare di uscire dalle case e di uscire dal come dire un ruolo ancillare nei confronti dell'economia cioè di un'economia che procedeva costruendosi e lavorando sul fatto che c'era un lavoro invisibile e misconosciuto di cura e di organizzazione che consentiva la riproduzione della vita ora il virus ha squadernato la fragilità del nostro paese non solo del nostro paese basta guardare le notizie dagli Stati Uniti da anche altri paesi europei che pure hanno da questo punto di vista hanno avuto una migliore tenuta nel senso che c'è una fragilità dell'Italia e del paese che è stata proprio ed è una fragilità della vita associata di questo paese che è stata deprivata dai tagli e dalle privatizzazioni prima diceva giustamente Patrizia ci dicono che bisogna sanificare le scuole io conosco la scuola dove lavora altramente l'associazione che Patrizia coordina e presiede mirabilmente lì non è questione di sanificare lì non si può andare in cortile perché non hanno non hanno potato i pini e quindi cosa ci venite a dire che dobbiamo fare le lezioni in cortile la situazione è questa cioè c'è un elemento di profonda fragilità della vita associata io e questa fragilità della vita associata noi abbiamo per esempio dovuto chiudere come casa delle donne la casa delle donne è chiusa e riaprirà riaprirà sanificando riaprirà nei prossimi nelle prossime settimane naturalmente all'interno delle misure di salvaguardia che sono necessarie obbligatorie però questa e penso che noi faremo questo sforzo anche perché pensiamo quello che pensiamo che il tessuto del volontariato e della presenza sociale debba rimanere debba rimanere in piedi contro venti e maree perché questo altrimenti rischiamo una desertificazione profonda della nostra città ora questa fragilità della vita associata emerge drammaticamente nella fase 2 nel senso che la fase 2 diventa più angosciosa della fase 1 perché noi abbiamo un paese che pensa di ripartire di far ripartire la produzione senza far ripartire la vita associata che sostiene la produzione io sono rimasta colpita e anche non so se scandalizzata o divertita da questa idea che adesso si fa si dà il permesso di usare i monopattini cioè che uno degli annunci del comune di Roma per risolvere un problema che sarà un dramma che è quello dei trasporti pubblici dando sussidi o aiuti per comprare i monopattini e le biciclette io sono molto felice di questo però dà il senso della forse non comprensione di che cosa l'epidemia la pandemia del coronavirus ha prodotto nella nostra vita basta mettersi dalla parte dal punto di vista dei bambini e degli anziani per rendersi conto di quanto un punto di vista maschile produttivistico e parziale lasci fuori la vita la vita quotidiana delle persone e l'altro elemento che secondo me emerge anche dall'esperienza di tante tantissime donne soprattutto giovani donne è che gran parte di questa fragilità è determinata dalla costruzione precaria dell'esistenza noi abbiamo avuto vent'anni in cui si è detto alle persone buttati competi anche se sei precario anche se non sei tutelato anche se sei sicuro ed è bastato un virus per rendere questo messaggio un messaggio suicida perché oggi chi è precario chi si è inventato il lavoro chi si è costruito l'app si trova improvvisamente con affitti da pagare senza entrate con senza possibilità e senza soprattutto senza prospettiva e senza futuro ora io credo quindi che noi dobbiamo cercare di partire da questi punti di vista anche perché è giusto avere il punto di vista io sono convinta che un paese riprende anche se riprende la sua industria la sua industria marifatturiera la sua filiera agricola ma penso che se noi lasciamo pensare che si possa ripartire come prima noi intanto abbiamo il problema di superare il prossimo anno e mezzo che non è che sia un tempo inconsistente è un tempo lungo noi non sappiamo ancora nulla di che cosa succederà dei trasporti quando si riapriranno si riaprirà l'attività piena nella città non sappiamo cosa succederà delle scuole cosa succederà dei nidi cosa succederà dei nostri anziani perché se uno dei nostri anziani si ammala o si aggrava che facciamo lo mandiamo nelle attuali residenze sanitarie assistenziali o nelle attuali case di riposo che sono tra i centri del contagio nella fase 2 come affrontiamo queste questioni ecco io penso che il modo in cui si affronta la fase 2 nel modo in cui si affronta la fase 2 e nella punti di vista che si assumono sta anche la possibilità di cambiare il futuro quindi io da questo punto di vista penso che ci vuole una centralità del comune i comuni devono combattere per difendere e rilanciare una vita associata ora adesso ci stanno raccontando ci racconta il ministro dell'economia che ci si può indebitare e che il debito è sostenibile dopo che ci hanno detto per vent'anni che indebitarsi era il diciamo peggiore di ogni possibile eventualità adesso ci dicono che per dare soldi alle imprese l'indebitamento è possibile ora io credo che i comuni e il comune di Roma e noi le dobbiamo chiedere dica che bisogna poter usare queste risorse per poter ricostruire la vita associata della città a ragione Sandro Medici lo diceva io e lui siamo sostenitori da tempo dell'idea di un piano straordinario di manutenzione ordinaria della città per ricostruire la possibilità della città di vivere ecco io penso che il comune debba battersi il comune di Roma che non è poca roba e i comuni debbano smettere di fare gli esecutori delle politiche di rigore e cominciare a ripensare se stessi la città che amministrano dal punto di vista della necessità di convivere con il virus far convivere i trasporti le scuole gli asili gli anziani i parchi con il virus e quindi di costruire una fase senza virus che sia migliore perché non è che le classi pollaio prima andavano bene e non vanno bene solo perché c'è il virus e non è solo che i trasporti non vanno bene erano diciamo così affollatucci anche prima le reti della metropolitana e gli autobus romani quindi io penso che dobbiamo come dire costruire una battaglia perché si renda possibile la vita e la riproduzione della vita questo ci dicono le donne e su questo costruire anche la possibilità che lo Stato assuma alle persone che la pubblica amministrazione diventi come dicono imprenditorio di ultima istanza cioè noi dobbiamo avere un grande piano del lavoro anche della pubblica amministrazione intesa per pubblica amministrazione il complesso della vita associata della città perché che va dalla cultura alla scuola ai trasporti alla salute alla manutenzione alla ripresa e che questo diventa volano di uno sviluppo diverso perché altrimenti all'agricoltura come diceva prima usando anche le risorse pubbliche che la città ha di cui l'agricoltura è una ma i beni culturali sono l'altra per esempio ecco io penso che questo che noi dovremmo secondo me chiedere al comune di Roma e ai comuni perché non credo che potremmo pensare il nostro futuro in monopattino grazie Giulia e prima di ridare la parola a Paolo volevo chiedere a Vito Meloni che è rappresentante diciamo di una delle forze politiche e quindi volevo chiedere a lui qual è la visione politica che si può promuovere qual è lo strumento con cui possiamo far camminare queste proposte l'idea di un new social green deal romano come si come cammina grazie buonasera a tutti a tutti un vecchio presentatore televisivo avrebbe definito la tua la domanda delle cento pistole domanda difficile ma non perché normalmente dovrebbe essere difficile rispondere a domanda del genere perché facciamo i conti con la realtà che è quella non solo romana ma anche italiana cioè di una difficoltà ormai storicamente dimostrata di mettere insieme una forza significativa parlo degli ultimi ovviamente degli ultimi 20-25 anni una forza significativa di sinistra dove deve essere chiaro penso che tra di noi lo sia però siccome ci ascoltano in tanti che io penso voi usiamo questa parola nella sua accezione vera rispetto al fatto che secondo tanta stampa di sinistra sono anche forze che con questa con questa posizione politica non hanno ormai più nulla a che vedere non da oggi quindi quali sono gli interessi che si difendono qual è qual è il campo che si sceglie rispetto agli interessi contrapposti tra le classi come si diceva una volta c'è questa particolarità italiana per cui essere esponente di un partito è quasi una colpa io credo che appunto italiana penso all'esperienza di Barcellona in cui felicemente la commissione tra forze politiche e forze sociali ha dato vita per due volte consecutive anche se è la seconda volta con un po' di affanno alla sindacatura dell'alcardessa ad Acolau perché lì è normale pensare che ci sia una collaborazione che non ci sia un primato da parte di nessuno e che non ci sia una colpa da scontare da parte di qualcun altro io penso che questa è una difficoltà con la quale ci dobbiamo misurare e con grande umiltà dobbiamo provare a metterci tutti al servizio di un progetto che invece ci faccia superare questa difficoltà e faccia valere una forza che io credo che ci sia che i presupposti almeno mi pare che ci siano se penso alla tanta vitalità che c'è nei nostri territori nei quartieri l'associazionismo la prontezza in cui si è risposto si risponde quotidianamente non soltanto nell'emergenza ma anche nelle fasi precedenti al stare vicino alle cittadine e ai cittadini quindi ci sono delle potenzialità che vanno assolutamente messe messe a frutto io intanto devo dire sono in troppo d'accordo con credo la totalità delle cose dette negli interventi che mi hanno preceduto non le ripeto proverò soltanto a prendere spunto da qualche parte per spiegare meglio qual è la mia posizione intanto credo che vada ringraziato Paolo Berdini per aver fatto la sua lettera aperta e chi ci ascolta a casa se non la conoscono inviterei a darla a leggere che mi pare che ponga le questioni le questioni rispetto a quale può essere il destino di Roma in un modo che io trovo assolutamente condivisibile e che mi pare quello giusto nel quale comunque io la mia forza politica ci ritroviamo in perfetta sintonia sapendo che c'è un agitarsi l'abbiamo visto noi adesso stiamo facendo una conversazione intorno a questo tema ma nei giorni precedenti nei giorni successivi ci sono state le settimane precedenti nei giorni successivi saranno altre occasioni di confronto su un tema analogo c'è un muoversi rispetto a quella che è la scadenza del 2021 in cui però mi pare che non sia dappertutto chiaro uno dei presupposti che a mio giudizio dovrebbe caratterizzare il provare a mettere insieme le forze per formare la massa critica necessaria a essere incisivi nella politica cittadina e cioè il fatto che noi facciamo i conti con una sostanziale continuità uso il termine sostanziale perché non sono stupido da pensare che tutto ciò che è avvenuto negli ultimi vent'anni sia uguale indifferentemente tra le amministrazioni che sono succedute tutte in misura più o meno temperata vittime asservite o succubi del pensiero unico neoliberista venivano fatti prima degli esempi trasporti il trasporto pubblico qui siamo tutti quanti d'accordo che il trasporto pubblico dovrebbe avere una priorità assoluta però veniamo in una città in cui sono state sperimentate con del resto anche su scala nazionale potenti processi di privatizzazione di indebolimento del servizio pubblico dei trasporti ora noi stiamo attraversando una fase complicata credo che la fase come qualcuno prima vi ha detto la fase che ci attende sarà ancora più complicata cosa gli andiamo a dire ai pendolari della Roma Lido che vivevano le condizioni drammatiche del trasporto pubblico prima della fase della pandemia al momento della riapertura in che condizioni cioè noi non è che abbiamo un sistema che era efficiente e che adesso deve fare i conti con una emergenza non prevista abbiamo dei sistemi che erano già stati fortemente indeboliti e che di fronte all'emergenza o alle conseguenze dell'emergenza attuale si troveranno a vivere dei problemi in maniera ancora più drammatica continuo con gli esempi è stato citato la questione della cultura da quanti anni a Roma non si fa Roma sappiamo chiunque conosca questa città sa che è sede di una delle più potenti industrie culturali non c'è soltanto città e l'industria culturale vuol dire produrre cultura dare occupazione ma soprattutto produrre cultura quindi anche offrire alle cittadine e ai cittadini gli strumenti per la propria emancipazione se pensiamo che la cultura debba avere questo compito da quanti anni non si investe in cultura a Roma nel senso di poter garantire a tutte e tutti la possibilità di una fruizione della cultura sono stati citati anche gli esempi di tentativi di autogestione io non entro nel medio di quello guarderei al fenomeno nelle sue dimensioni macro è stato citato per esempio la vicenda di Scenicittà rispetto a tutte queste cose o la delibera 140 a proposito di sgomberi vorrei ricordare due un tantino più recenti rispetto a quello del valle non per mettere in contrapposizione per carità che sono quelli dell'ex di Alto Sant'Ambrogio e la requisizione divide il governo vecchio lì non c'era da sgomberare ma fu riacquisita andarono lì in Pompamagna a riprendersela una quest'ultima con il valore simbolico della storia che si portava dietro e quella più recente invece per quello che c'era di attività in quella cosa lì abbiamo in tutti gli esempi che ho fatto abbiamo un'eredità che ci viene dal centro-sinistra questo noi bisogna che ce l'abbiamo ben chiaro e che rispetto al quale rispetto alla quale eredità si è innestata poi la cialtroneria dell'amministrazione 5 Stelle della giunta della sindaca Raggi gli esempi appunto degli ultimi due sgomberi dicono questo non ha senso pensare che tu devi interrompere dell'attività per acquisire dei locali che restano chiusi ormai da due, tre, quattro anni senza nessuna utilità neanche si discute quando è così e appunto io credo che la questione fondamentale sia capire se si possa essere indulgenti verso il centro-sinistra in tutte le edizioni in tutte le forme in cui l'abbiamo visto svilupparsi nel corso di questi anni oppure se non si debba pensare che ormai su quella ahimè non lo digo con piacere su quel versante non ci sia non ci sia alcuna speranza di riscatto e che quindi non si possa pensare se non ad una collocazione che che non può che essere nettamente alternativa a quello a quello schieramento lì non per una regione di antipatia ma perché i fatti la storia quella con la S minuscola purtroppo insomma la cronaca politica degli ultimi anni ci dice qual è la direzione di marcia che hanno voluto assumere anche i fatti fatti più recenti le questioni che riguardano la politica nazionale o il profilo del centro-sinistra romano per come si atteggia in questi in questi frangenti sia prima della fase emergenziale che durante io quindi penso che debba essere chiaro poi con chi come e l'altro l'altro pezzo della risposta che proverei a dare io penso che serva un processo largamente partecipato dal basso adesso diciamo gli slogan che ci pare dal basso e dall'alto direi perché io non credo che ci siano non lo dico facendo Cicero protomo sua perché penso ci sono delle energie delle elaborazioni che attengono alle forze organizzate e quando parlo di forze organizzate non mi riferisco unicamente alle forze politiche ci sono forze organizzate tra le realtà sociali che sono più rigidamente organizzate ve lo assicuro di qualunque partito politico anche di vecchio stampo che noi possiamo aver conosciuto quindi io penso che ci debba essere un apporto significativo di collaborazione a partire da tra queste soggettività a partire da una individuazione di linee di programma e mi pare che nelle cose dette da Paolo in apertura nelle cose che scriveva nelle cose che abbiamo detto oggi ci siano ci sia un po' un sommario abbastanza ampio delle cose di cui ci sarebbe bisogno dal lavoro ai trasporti abbiamo qualcosa non l'abbiamo citata la gestione dell'acqua pubblica che attualmente non è pubblica il ciclo dei rifiuti se ne possono mettere tantissimo la questione urbanistica la questione abitativa Roma ha una emergenza abitativa che chiamare l'emergenza è quasi un prendersi in giro visto che la normalità da un numero di anni infinito ormai e quindi se non si affrontano queste cose evidentemente un programma che tenga conto di queste cose intorno a cui far discutere le persone aggregarle chiedere che ci si metta a disposizione di un processo senza nessuna boria senza nessun desiderio né di primato nemmeno però di essere più o meno cenerentole di processi da cui dove essi io ricordo una cosa simpatica poi concludo una cosa simpatica che non so quanti di voi hanno partecipato alle assemblee quando si tentò di fare quella cosa che si chiede cambiare si può l'assemblea del Quirino poi ne decretò la fine prematura io ho partecipato ad alcune assemblee che si fecero nella fase del percorso costitutivo al Cinema Palazzo molte si facevano lì e c'era una spilza di interventi di compagni di ricondazione che però avevano l'obbligo di intervenire a nome di una delle mille e una associazioni di cui ciascuno di loro faceva parte perché bisogna nascondere il fatto di essere di ricondazione io questo spero che sia una cosa che decidiamo di superare perché non ha nessun senso non parlo di ricondazione parlo per qualunque forza politica che sia disponibile a mettersi al servizio di un progetto comune tra le cose che mi pare che debbano essere centrali nelle linee programmatiche proverei a metterne ad aggiungere non so se aggiungere o sottolineare rispetto a cose dette c'è la questione già citata del debito c'è la questione del patto di stabilità degli enti locali così come pesa sulla testa della politica nazionale il patto di stabilità europeo sulla testa degli enti locali pesa il patto di stabilità degli enti locali quindi l'impossibilità di fare spesa e poi a Roma aggravato dalla questione del debito che è già stata mi pare citata da Monica sulla quale non ritorno ho letto qualche giorno fa una serie di proposte che venivano dalla rete di città in comune io penso che una delle cose che potremmo fare sarebbe adottare quelle proposte perché hanno il respiro che mi pare che serva in una cosa di questo genere ci ho detto per concludere per quello che ci riguarda che riguarda rifondazione noi ci mettiamo a disposizione non credo che il tema sia costituire o non costituire una soggettività di sinistra anche perché le esperienze anche recenti della vicenda romana ci hanno lasciato un po' scottati se posso dirlo con sinistra per Roma credo che però debba essere stabilita almeno una cosa semplice si partecipa insieme per fare in modo che ci sia una rappresentanza delle istanze che noi riteniamo oggi non siano adeguatamente o per nulla rappresentate nell'assemblea capitolina non ci aspettiamo di avere la maggioranza il sindaco la sindaca quello che sarà io dico il sindaco visto che abbiamo con noi chi penso che possa svolgere questo ruolo meglio di altri avremo una rappresentanza se ci riusciamo se riusciamo in questa impresa avremo una rappresentanza che sarà sicuramente limitata credo che bisogna fare di tutto per fare in modo che chi rappresenta le persone gli elettori ma anche l'aggregazione che ha dato vita alla possibilità dell'elezione debba avere a cuore il mantenimento di una relazione politica costante con mi univoca appunto tra l'eletto e le forze le soggettività promotrici questo a me basterebbe perché penso che sarebbe un grande passo avanti nella direzione giusta poi se se sono rose fiorilanno a volte si è detto che Roma può essere un laboratorio in passato lo è stato in alcuni casi un laboratorio che può anche dare indicazioni per la politica nazionale io francamente me lo auguro però questo dipende da quanto riusciamo a mettere in piedi noi grazie grazie prima di dare la parola a Paolo volevo ricordarvi un po' che noi l'intenzione che abbiamo è quella nei prossimi giorni di invitare a continuare questa questa conversazione con alcuni dei soggetti che sono direttamente coinvolti nella crisi della pandemia penso a tutto il mondo della sanità pubblica penso appunto al mondo della scuola a chi dovrà ripartire anche senza lavoro e quindi tutti questi soggetti a cui chiederemo di partecipare a questo confronto e a questa discussione e naturalmente non non si conclude con oggi ma intendiamo con questo fare un passo in avanti e quindi darò la parola a Paolo per fare quel passo in più grazie Roberto no io comincio nel dire che mi sembra che siamo partiti col piede giusto perché tutti gli interventi che ho ascoltato accidenti si hanno si hanno dato il quadro della Roma che vogliamo perché lo dobbiamo riempire questo mi sembra la grande sfida che abbiamo così riprendo l'ultimo intervento quello di Vito è certo che se riempiamo di questi contenuti è evidente che noi abbiamo una visione alternativa rispetto a coloro che hanno portato la città e l'Italia nella crisi devastante attenzione che non dobbiamo fare sconti qui è vero che il coronavirus è una cosa devastante dal punto di vista degli effetti che avrà ma nessuno può negare che la città di Roma e l'Italia erano in crisi anche prima della fine di febbraio insomma questo è l'elemento perché non hanno proprio più il respiro per capire dove saranno le filiere del lavoro di questo paese di questa città ecco questo mi sembra che sia venuto fuori quindi è importante che cominciamo mattoncino a dare il quadro di una visione alternativa della città e allora per aggiungere due piccoli passaggi perché lo ripeto è stato detto tutto io riprendo due questioni che per me sono fondamentali Ernesto Nathan la giunta che rompe per la prima volta il governo il governo clericale a Roma il governo liberal clericale lui fa un'operazione fantastica nel senso che punta tutte le sue carte nella costruzione delle scuole nelle periferie romane molto piccole all'epoca ma insomma San Lorenzo ne sa qualcosa dell'esperienza di Nathan e nella costruzione dei luoghi di lavoro cioè la Roma della piramide insomma la Roma di Vidostiense è il frutto di quel pensiero socialista illuminato cioè devo dare lavoro ai miei cittadini questo è la pubblicizzazione di tutte le aziende e meno male che il referendum è andato a finire male se no dopo cent'anni i radicali avevano portato la bilancia dall'altro secondo passaggio altrettanto fondamentale sempre per rivendicare la visione alternativa di cui parla appunto Vito quando c'è l'esperienza Argan Petroselli e ci metto pure Renato Nipolini lì c'è la questione la questione delle periferie e la questione della casa da parte da parte di Petroselli la cultura come riappropriazione della città come comunia da parte di appunto di Renato e c'è l'altra questione che forse dobbiamo rispolverare in questo momento perché chi apre i centri anziani che hanno dato la possibilità a tante persone che erano state appunto narginate dall'età dall'abbandono del lavoro è stata una giunta Petroselli cioè tutto quel bagaglio di servizi dobbiamo aggiornarlo oggi cioè riprendere quei filoni e dire che oggi serve l'ha detto bene Patrizia ricomprendere come noi eroghiamo il servizio scolastico in questa città disuguale come ricostruiamo il tessuto della decentrata di una sanità che è stata invece privatizzata e qua ci metto un piccolo piccolo piccola sottolineatura perché è un mestiere che fa molto bene Roberto Giordano insomma la privatizzazione della sanità come la privatizzazione di tutti i servizi di erogazione scolastica ha portato alla precarietà del lavoro allora se noi riusciamo a mettere a fuoco questo binomio per noi è chiaro ma non è chiarissimo alle persone che non seguono noi facciamo un'operazione importante perché diciamo che questo è appunto il frutto del fallimento allora secondo elemento qua Monica ha detto molto bene insomma attenzione che i soldi ce li faranno penare però credo che se come Roma la città che vogliamo puntiamo tutto sul fatto che va potenziato il trasporto pubblico a prescindere cioè non è che può essere il solito gioco ma se non è redditiva quella linea si taglia come è stato fatto con Giunta Marino no noi vogliamo il potenziamento ovviamente con altre modalità quindi che lo dica a fare tramvie piuttosto che trasporto su gomma questo è un altro elemento che secondo me la città coglie bene oggi soprattutto dal 4 quando per prendere un autobus sarà un po' problematico per molti terza questione l'avevo accennata e anche qua vado velocissimo l'avevo accennata Roberto io non l'avevo accennata prima attenzione che qua tra un po' sarà chiaro che la dilagante epidemia non è stata dovuta soltanto alla privatizzazione la dissennata disarticolazione della sanità ma è dovuta pure all'inquinamento non ci sono ancora prove sperimentali sapete che il dibattito è aperto ma insomma è chiaro che il virus ha colpito le zone più inquinate d'Italia questo mi sembra chiaro e ci sono ormai scuole di pensiero che dicono che il particolato è stato il veicolo con cui se questo è vero è chiaro che la questione ambientale diventa decisiva quella che accennava Roberto e diventa decisiva a maggior ragione perché noi dobbiamo cogliere quest'istanza dei giovani che mi sembra si sia più volte no espressa ma che non abbia trovato ancora un veicolo sociale politico sociale e culturale con cui esprimersi e allora a questo punto veramente la finisco perché e riprendo anche qua la terza volta che lo che lo che lo cito non per gli altri ma perché mi sembra questo il punto decisivo di Roberto cioè è chiaro che per la nostra visibilità o noi ricominciamo a essere presenti nella come dire dialettica sociale oppure noi siamo invisibili perché perché io lo ripeto sempre perché questa è una cosa che mi sta molto a cuore nel dibattito di noi poveri utenti della televisione in questi ultimi due mesi compaiono solo i responsabili di questo disastro che è stato e noi non compariamo mai allora la proposta appunto che mi sembrava venire di manifestazioni molto ordinate molto serene però molto forti che appunto pongano il problema del trasporto pubblico pongano il problema delle scuole pongano il problema di una manutenzione del verde che non è stata fatta nemmeno in questi giorni cioè i parchi sono stati chiusi e sono rimasti chiusi senza manutenzione cioè una follia tutta romana ecco se dunque e finisco davvero noi riusciamo a coniugare questo questa insomma articolazione di idee molto interessante con proposte di crescita della attenzione sociale cioè di essere punto di riferimento per la rivendicazione di questa città faremmo un passo avanti e insomma credo che uno dei punti decisivi della nostra visibilità sia quella di dire che la delibera 140 che è stata giudicata da tutti noi guarda caso come una scelleratezza aveva colpito solo tutta la la struttura sociale che ha tenuto in piedi le periferie perché quelli che portavano i pacchi alle persone anziane sole era guarda caso gran parte dei centri sociali che hanno occupato e che quindi noi dobbiamo avere come alleate in questa questa prospettiva grazie a tutti veramente è stata una discussione molto molto interessante grazie a te grazie a chi ci ha seguito e continuate a farlo nelle nostre pagine facebook e nel sito permettetevi fare anche un po' di pubblicità transform che segue con particolare attenzione questa costruzione ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao grazie grazie